Cari amici, buonasera. Il volume che presentiamo arriva in un momento culminante degli studi morandiani. È un libro in cui si dà conto del vaglio di una gran quantità di opere durato un trentennio. Il comitato che nel corso di questo trentennio ha mutato struttura, nome, inquadramento giuridico-amministrativo e tuttavia ha espresso una continuità di pensiero e di azione assolutamente coerente. Ha individuato e approvato un numero notevole di opere ma in realtà su una serie di proposte enormi che sono arrivati e arrivano continuamente al comitato che certamente ha guadagnato, e questo libro non è una conferma migliore, ha guadagnato la fama di un'autorità, un'autorevolezza che è rimarchevole nel nostro tempo. Noi sappiamo bene come sono frequentissimi i casi di grandi maestri del Novecento che sono oggi tutelati, quella che è l'autenticità delle opere, il loro valore, la dignità della ricostruzione critica, dei loro percorsi, sono tutelati da fondazioni, istituzioni che si sono formate sovente in modo altamente conflittuale. E' all'ordine del giorno il fatto di gruppi contrapposti che rivendicano, per motivi familiari, amicali, istituzionali, di essere depositari della verità inerente all'opera di Tizio Caio Samprò. Ognuno di noi conosce, ha sperimentato casi analoghi, in Italia sono numerosi e non è necessario effettivamente starli a citare. Il caso di Morandi è diverso. In realtà la tutela del nome, della dignità, dell'onestà e della qualità e della verità dell'opera morandiana è sempre rimasta legata a un ben preciso gruppo di familiari, studiosi, esperti che si sono per così dire passati il testimone nel corso del tempo nel caso della famiglia di Ringhelli o hanno mantenuto una continuità di attenzione. Questo catalogo è uno dei tanti, se vogliamo, però la cosa molto interessante è che intanto arriva ora, pubblicato tra l'altro magnificamente dalla casa editrice Giori, che si segnala per una qualità editoriale veramente rimarchevole. Ma soprattutto perché questo catalogo contiene in sé la storia dei cataloghi, la storia della catalogazione dell'arte morandiana, la storia delle tappe, della evoluzione delle vicende dell'archivio Morandi, del museo Morandi, del rapporto con il comune di Bologna, del rapporto tra la famiglia e alcune personalità critiche che hanno sempre seguito Morandi e di quelle che poi proseguono. La storia di Lamberto Vitali, ad esempio, che è così interessante sotto il profilo della storia della critica d'arte in Italia e morandiana in particolare, è ripercorsa in questo libro in un modo avvincente e documentatissimo. La storia stessa di Marilena Pasquali, che è qui con noi e che naturalmente ci può raccontare con competenza assoluta queste vicende, è comunque anche ben consegnata e depositata in questo libro, al punto che addirittura a Marilena, imitando Giulio Cesare, tu parli in alcuni di questi testi, Marilena parla di sé in terza persona, quasi per dare un distacco, ma ho trovato questa cosa ammirevole sotto il profilo storico. In effetti non c'è dubbio che al nome di Morandi è legata una storiografia e una elaborazione critica particolarmente rilevante nella storia generale della cultura di questo paese, come Morandi auspicava e come è avvenuto e avviene. Tantissimi anni fa Lamberto Vitali si meravigliava che si continuassero a scoprire opere nuove di Morandi. Ma è incredibile che dicesse questo. Quante ne sarebbero state scoperte poi? Tantissime. Perché c'è una cosa interessante, importante, che questo ultimo catalogo nuovamente evidenzia, nuovamente mette a punto, attraverso la pubblicazione di una cospicua serie di inediti, tutti di grandissima qualità e di grandissima rilevanza, ma d'altra parte questo catalogo ribadisce un principio che è ben stampato nella testa di tutti gli studiosi di Morandi e di tutti coloro che con capacità, competenza e coscienza si avvicinano alla sua opera. E cioè che Morandi appartiene a quel novero di artisti che sono, per così dire, infallibili. non c'è un'opera brutta di Morandi, se c'è è falsa. Non c'è un'opera mediocre, e questa è la cosa veramente strana e singolare. Morandi in qualche modo è come un grande demiurgo che una volta individuato il suo essere lo esprime senza alcuna flessione. È, come avrete notato dalla lettura che Nino Castagnoli ci ha fatto di alcuni passi del libro appunto del libro della monografia di Arcangeli appunto Nino ha ripercorso così un flash, però un flash efficace, no? Questa drammatica corrispondenza che a un certo punto diviene drammatica tra lo sfortunato e grandissimo Francesco Arcangeli e Morandi. È una storia che è molto presente alla mente degli studiosi d'arte anche non specialisti di Morandi. La storia dell'attrito tra Arcangeli e Morandi fa parte dell'immaginario collettivo della cultura del nostro paese. Tutti sanno che è questo avvenuto ma nessuno poi sa bene perché e per come. E del resto, nella stessa corrispondenza non è mai così esplicito. Giustamente, Nino, mi sembra, tu dicevi alla fine poi, ma sono... cioè non si capisce bene come mai questo scontro mortale e mortale fu veramente perché praticamente Morandi si ammala gravemente e viene a morte poco tempo dopo che è esploso questo attrito terribile. È vero. Arcangeli impazzisce. Ghiringhelli a sua volta scompare pochissimo tempo dopo. È una cosa impressionante che a me ha sempre ricordato la vicenda del nostro mentore supremo, il caro Raffaello Sanzio che qui presiede sempre ai nostri incontri accademici. Anche Raffaello arriva a una situazione terribile col suo più caro amico, il suo mentore Agostino Chigi che l'ha accompagnato per tutta la vita, che lo ha sostenuto, ma improvvisamente nel giro di pochi mesi Raffaello muore misteriosamente. Incredibile, ma è vero. Agostino lo segue pochi mesi dopo e il Papa Leone X che era stato il grande mentore di tutto ciò scompare anche lui. È una cosa impressionante. Gli storici non lo spiegano in nessun modo a meno che non si voglia ammettere che si può morire di dolore. Io non lo so e nessuno di noi lo sa perché per provarlo bisogna... Però la sensazione è quella. Come se Morandi, che appare un Giove olimpico, Morandi sia come artista sia come uomo, è Giove che tiene in pugno a tutti i suoi, che poi è il motivo. Perché? Almeno io mi sono creato questa idea, è una cosa assolutamente personale, ma rileggendo il catalogo, rivedendo le opere, meditando, mi sono rafforzato nell'idea che sostanzialmente perché questo attrito tra il grande critico Arcangeli che venera Morandi. E Morandi non venera Arcangeli ma lo protegge, lo considera uno dei suoi. Morandi ha molto questo senso dei suoi. Eppure c'è l'attrito. Perché? Perché Arcangeli nello scrivere il libro non ha capito il punto essenziale che deve capire intuitivamente e cioè che Morandi è infallibile. Cioè è un Dio. È un Dio. Morandi si sente un Dio. E quindi non è la questione di discutere ma come mai la tesi critica non va bene perché Arcangeli lo legge criticamente in un modo che Morandi non accetta. Ma no, non è così. Questo è la vulgata. Morandi non accetta che ci si possa rapportare verso di lui se non come un sovrano assoluto dell'arte. Non è la posizione critica di questo o quello che Morandi non accetta. Morandi non accetta la posizione critica. Cioè pensa su di me non si scrive come su qualunque artista criticamente. Io sono e infatti la sua opera è così. È una perché i quadri di Morandi sono tutti uguali e tutti diversi? Perché Morandi esprime l'io il se. C'è una c'è una frase bellissima che è riportata nel catalogo e citata con molta lode di Giulio Carlo Argan che nell'introdurre il secondo volume mi sembra del catalogo dei disegni scrive un testo molto intelligente Argan era un uomo molto intelligente su Morandi e riporta un fatto dice Morandi sorride di disprezzo quando sente dire che c'è in lui una sorta di amore evangelico perché queste bottiglie un po' polverose sono trasfigurate naturalmente cioè la bottiglia dipinta da Morandi è una sorta di atto evangelico e egli non rappresenta le bottiglie ben inteso ma rappresenta un'idea un confine della mente tra il presente e la memoria questa interpretazione di Argan è praticamente come se Argan volesse dire l'opera di Morandi è Proust è la recherche proustiana fatta in pittura Morandi è un Proust non so se avesse ragione o torto ma certamente diceva qualche cosa che è aderente alla testa di Morandi Morandi è un artista che ha effettivamente studiando il catalogo gli scritti di Marilena si capisce ma ha una radice ce l'ha veramente proustiana ma proustiana nel senso che non perché la sua opera è una recherche della memoria delle bottiglie o delle gasse di Grizana ma perché effettivamente c'è un aggancio di Morandi con la cultura francese con la mentalità francese che è potentissimo e profondissimo in un certo senso Morandi lavora come Poussin cioè è un lavoratore della pittura un impiegato un dirigente un direttore generale della pittura che lavora sul serio però che non fa lavorare gli impiegati con un ritmo regolare dipinge produce è un produttore Morandi non ha mai fatto il mistero di questo la prima cosa da dare è il mercato il commercio io faccio i guardi per venderli e quindi mi devo tenere buoni certi galleristi certi critici Arcangeli a questo non ci pensava minimamente ma è uno dei motivi per cui poi tra l'altro Morandi si è arrabbiato non capiva senti ma io per esempio se ho venduto un quadro a Cesare Brandi che è un grande critico tu bisogna nella monografia amico mio ce lo metti e dici che è un grande capolavoro Arcangeli naturalmente non sentiva ragioni cioè esattamente come Poussin che è consapevole che ciò che produce è l'oro è l'oro della bellezza e quindi vale tantissimo e va attentamente preservato catalogato quindi questo lavoro di catalogazione di individuazione del falso è intrinseco alla profondità dello spirito di Morandi paradossalmente Morandi non è un assista ispirato perché il contenuto della sua opera è l'ispirazione anche Poussin non è respirato affatto cioè o perlomeno si alzava la mattina all'orologio sono le 8 faccio colazione fino alle 8 e mezza come Moravia per dire poi mi siedo al cavalletto e dalle 8 e 30 alle 13 eseguo un capolavoro di 60 per 40 perché se no non lo finisco poi mangio il pomeriggio se ho tempo di lavorare fino alle 8 faccio un capolavoro di 120 perché è più grande ci metto più figure eccetera eccetera da questo tipo di lavoro che è andato avanti per 30 anni 40 anni è emerso non un capolavoro ma il capolavoro dell'arte di Poussin Poussin non parla mai di sentimento di ispirazione non gliene fregava niente è un grande pittore e quindi è perfetto così era Lorraine e in effetti basterebbe pensare al senso almeno a mio avviso al senso profondo della firma sapete Morandi ha varie firme non lo devo certo dire io ma è impressionante la firma monumentale di Morandi anche nella la tipologia della firma monumentale monumentale e molto scolastica nella proiezione che vediamo ci sono due o tre esempi memorabili Morandi scritto quasi da studente da 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 bambino che ha studiato bene ma da chi è ripreso quella tipologia di firma da Russo il doganiere studiamo nella storia dell'arte e trovate un altro caso che si possa comprare ma Morandi era era molto molto stimava moltissimo il doganiere Russo perché è uno dei grandi veicoli di questa dimensione metafisica divina divina che Morandi sente avere in sé Morandi ritiene di essere un eletto e come tale va trattato e non va trattato come quello che dice ah qui lo stile è stupendo il colore è meraviglioso ma che quello è scontato ora e d'altra parte se noi pensiamo c'è proprio nella costruttività di Morandi e questo si vede in questo catalogo in modo magnifico c'è proprio quella dimensione della sacralità dell'arte per cui le esecuzioni dei quadri di Morandi sono una specie di messa con le sue varie fasi l'introido la preghiera la benedizione la consacrazione l'eucaristia la predicazione e l'uscita e infatti che cosa c'è di più uguale e di più diverso della messa la messa è una serie di formule quindi praticamente non c'è nessuna componente emotiva ma come viene percepita dal fedele come sempre nuova le parole che sono scritte sul libretto e che quindi non ci sarebbe nessun bisogno debbono essere lette dal sacerdote e il mistero della messa si rinnova sempre è sempre uguale e sempre nuovo e che i quadri di Morandi che cosa sono? questo tra l'altro stanno su una mensa i quadri di Morandi sono un altare in buona sostanza andiamo semplifichiamo un po' queste bottiglie ma che sono? sono oggetti messi su una mensa che sono la metafora dell'uomo del popolo delle persone che stanno insieme che si sostengono che si proteggono che adorano che perché lui non dipinge mai le persone? ma perché quelle sono le persone sia i paesaggi sia le nature morte le nature morte sono le fasi della messa Morandiana cioè di una sacra cerimonia che è la pittura e che è sempre uguale sempre uguale la preghiera è sempre uguale ma quando tu la dici e la vivi è tua perché che ci vale a dire padre nostro che sei nei cieli sia santificato anzi sovente si dice la preghiera e non si pensa a che cosa stiamo dicendo ma se uno ci pensa allora sì che l'animo si eleva allora sì che si sale a livello sublime è quello che fa Morandi Morandi fa questo la sua arte è una gigantesca sagra cerimonia ecco perché Morandi gli piaceva Cesare Brandi Cesare Brandi vede la pittura di Morandi e da lì deduce ecco che cosa è l'arte la pittura di Morandi è l'arte è il concetto dell'arte si deriva da Cézanne sì d'accordo sì certamente è collegabile forse a Chardin sì 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 ma non è così perché l'arte intesa come azione sacra come sacra rappresentazione esclude completamente il problema degli influssi ecco perché a Morandi gli dà fastidio Arcangeli magari lo paragona a qualcuno ma come si permette si può paragonare solo a se stesso e l'arte di Morandi è un immenso beneficio rivolto all'umanità al singolo no anzi il singolo insomma non non gli dava non gli dava un po' fastidio insomma se non era se non era però così facendo sostanzialmente ecco perché un catalogo come il catalogo di Morandi e soprattutto il catalogo di Morandi guidato da Marilena che veramente è riuscita a entrare Marilena tutti i componenti del comitato scientifico che sono conoscitori indiscussi dell'opera morandiana è così possibile che questo catalogo davvero ha potuto depurare da qualunque scoria ed è assolutamente indispensabile perché l'opera di Morandi non può ammettere alcun tipo di scoria alcun tipo di sedimento di dubbio perché in qualche modo è veramente metafisica d'altra parte consideriamo Morandi parte non si sa bene come evidentemente lui stesso era consapevole di non avere individuato subito questa essenza come essenza dell'arte per cui infatti i ricercatori cercano di ricostruire questo primo Morandi ma è difficile perché ha distrutto ha distrutto tutto perché si ha simpatie per tanti persoffici futuristi certo tutto questo è documentato ed è filologicamente ricostruibile molto bene ma arriva al momento in cui ha fatto la sua mente si è sgombrata e questa santa messa è cominciata con delle strutture che non potranno mutare mai e che sono la bellezza in sé in sé e per sé però però naturalmente i suoi referenti ce l'ha lui naturalmente si vanta non è mai stato all'estero sempre chiuso ma che bisogno c'è dov'è questo estero quando si è arrivati a una concezione dell'arte in sé e questo un po' lo avvicina a Proust e Brandi per esempio quando scrisse la monografia su Morandi dice questo l'arte di Morandi è come un occhiale meraviglioso noi ce lo mettiamo e che cosa vediamo non le bottiglie vediamo l'arte vediamo la dimensione artistica egli ce la fa vedere come meglio non si potrebbe perché la trasfonde direttamente e e e quando Morandi arriva a questo quando impatta sulla metafisica perché la metafisica si chiama metafisica per questo che cos'è la metafisica è ciò che al di là delle cose umane fisiche cosa c'è al di là delle cose fisiche il divino dice ma allora De Chirico pensava di fare il divino insomma un po' sì naturalmente il divino non si può rappresentare quindi c'è questo assurdo meraviglioso che fonda però il concetto stesso dell'arte non si può rappresentare ma si fa no così come nella religione ebraica non si può pronunciare il nome di Dio però poi si pronuncia però si pronuncia un nome che non è il nome di Dio esattamente e questa è l'arte l'arte metafisica quando Morandi si incunea dentro la mentalità metafisica e poi i quadri metafisici di Morandi sono pochissimi una quindicina magari saranno stati pure un po' di più ma insomma a quel punto naturalmente come il missile che sale verso il cielo il pezzo metafisico si stacca però lo ha spinto in alto e a quel punto la navetta Morandiana sale verso il cielo e questa salita ce l'ha portato veramente nel cielo allora è chiaro che poi quando arriva il momento di ricadere sulla terra perché qualcuno come Arcangeli ti lotta per riportartici per farti capire che ma no alla fine non sei Dio anche tu sei come tutti gli altri e allora c'è la ripulsa e c'è fino in fondo allora a quel punto succede come come nel racconto di Philip Dick quello che che fu trasposto nel cinema da quel bellissimo film che si chiama Blade Runner dove c'è il replicante che è una specie di forgiato da un Dio e il replicante però arriva il Dio gli ha dato una scadenza della vita lui non lo sa quando è ma quando arriva se ne accorge e in quei pochi secondi soffre terribilmente e dice ma come ma come allora devo allora io sono come tutti gli altri pure io ho dentro di me questa cosa terribile che è la vita e che però finisce e effettivamente nei quadri di Morandi non si capisce bene se c'è è rappresentato l'inizio o la fine e così Morandi si scontra con Arcangeli che in un certo senso gli sta dicendo guarda che pure tu sei tu come tutti gli altri finirai pure tu e infatti e così succede Morandi lo respinge ma si ammala e muore e Arcangeli pure esce di testa e altri che erano così vicini a lui pensano che è arrivato il momento della fine ma invece per noi storici non è così noi grazie agli studi di Marilena e di tutti quanti attraverso questi cataloghi recuperiamo tutto questo sapere ce ne compiaciamo sommamente e salutiamo la pubblicazione di questo catalogo come un'altra meravigliosa pietra miliare di questo mondo morandiano che effettivamente effettivamente tanto grande tanto importante tanto commovente è per noi e quindi un'opera di filologia veramente magistrale cui c'è tantissimo da imparare dal primo articolo di Riccardo Bacchelli il primo che scrisse su Morandi fino a oggi e ancora avanti naturalmente per questo lavoro così grande questa fonte veramente che sembra inesauribile degli studi morandiani che la nostra Marilena coltiva così degnamente e così noi siamo molto contenti di rendere omaggio a lei a tutti gli studiosi che su Morandi hanno fatto e fanno tanto bene con il viatico delle parole straordinarie di Claudio Srinati sarà più facile per Barivena ripartire e riandare anche lei con la sua navicella verso l'alto grazie a tutti grazie a tutti